C'è quella gialla che gioca a palla, la foglia marrone fa un ruzzolone. C'è quella rossa che fa una gran cosa, la foglia arancione vola come un aquilone. Solo la verde si tenebbe stretta perché di cadere non ha proprio fretta. Questa era la filatura delle foglie mate, ciao ciao!